Alcune volte le parole sono superflue, alcune volte non si trovano quelle giuste. Lasciamo parlare il nostro cuore. Il nostro cuore non è di pietra. La pietra si distrugge mentre il nostro cuore è più forte. Perciò aiutiamo chi ne ha davvero bisogno, chi in questo momento il cuore lo sta lasciando sotto le macerie. Possiamo inviare due euro con un sms o chiamando da rete fissa il 45500. Per favore aiutiamo chi ne ha bisogno.